Bene carissimi amici, una buona giornata a tutti voi, una buona domenica, ben ritrovati qui sul mio canale, siamo nell'appuntamento con l'analisi estrazione di sabato 11 febbraio e andiamo a valutare quello che è successo in questo quadro estrazionale. Bene, vediamo questo 90 a Torino che comunque portava dei buoni segnalatori, guardate quando vi dico sempre la distanza 1, è molto importante per il 90 alla consecutiva, qui avevamo 42, 43. Quindi molta attenzione soprattutto quando esce la distanza 1 così consecutiva per il 90. Genova, Torino rimanevano belle ruote, Genova diciamo che era più forte e è caduto a Torino, comunque se andiamo a vedere, anche Torino portava per esempio il 48 come spia, portava la figura 9 in terza posizione. Portava il doppio gemello, anche se il gemello non era in terza, quindi c'erano delle belle situazioni, ma c'era questa distanza 1, 42, 43, che quando cade è molto bella per il 90. Allora rimangono confermate le ruote del mio 90 segreto, mi raccomando Cagliari, Genova, Palermo, ci potrebbe essere una forte ripetizione sulla ruota di Cagliari, ma attenzione ovviamente anche a Genova, Palermo, giocata confermatissima. Infatti Cagliari ci porta questo 86, che è un bel segnalatore, una bellissima somma 90, 86 e 4. State molto attenti perché Cagliari nei mesi scorsi vi ho dimostrato come sia Cagliari che Genova hanno portato una grandissima frequenza sul 90, quindi potrebbe ripetersi anche a Cagliari. Quindi molta attenzione, chiaramente rimangono tre ruote di fuoco per il mese di febbraio. Palermo porta la figura 9 in prima 54 e questa cadenza 6, che è la cadenza 6, sapete che porta il 90. C'è un bel triangolo tra le ruote di Cagliari e Palermo, 86, 16, 46. Questo è un bellissimo triangolo di cadenza 6. Vediamo ancora qualcosa, 84 annuncia il 90, Milano-Venezia, quindi un 90 che lo vedremo sortire ancora su diverse ruote, quindi attenzione bene. La nazionale, scorsa estrazione, ci portava ancora l'84, quindi nazionale potrebbe anche portare il 90, gemello in terza posizione. Quindi due spie in due situazioni consecutive, quindi molta attenzione. L'1 di Bari lo annuncia, il 2 di Bari lo annuncia, quindi Bari-Napoli continuano ad essere forti. Napoli porta il 39, spie del 90, abbiamo la figura 9-81, abbiamo l'ambo di distanza 1, le posizioni virtuali, la prima e la quinta, 59-60. Quindi attenzione, la distanza 2 è consecutiva, 39-41, quindi Bari-Napoli, ruote molto forti, oltre chiaramente rimangono confermate le ruote del 90 segreto, ormai le sapete, Cagliari-Genova-Palermo. Ma Bari-Napoli è anche una coppia molto forte. Iperfrequenza del 18 tra le ruote di Bari-Cagliari, come vi dico sempre, tra le ruote di Bari-Cagliari c'è una grande e forte ripetizione numerica. Si ripetono sempre gli stessi numeri. Quindi attenzione, diagonale distanza 2, 2-4 Bari-Cagliari, poi vediamo cosa abbiamo. Genova rimane anche fortissima. Abbiamo visto anche le condizioni nelle scorse quadri estrazionali, quindi vedremo la prossima settimana cosa succederà. Rimane ovviamente tutto confermato. Vi avevo dato dal mio metodo ambata-turbo le ambate 14-41 tra le ruote di Bari-Napoli, è andato a sortire il 41, è dato anche l'ambo secco nel metodo completo. Vi raccomando ambata-turbo a prenderlo, ve l'ho data la prima mensile, vi ho detto 3-4 colpi di gioco, un metodo che paga alla grandissima. Vi ho dato 14-41 Bari-Napoli, 3-4 colpi di gioco. E' uscito il 41 sulla ruota di Napoli, vi avevo regalato anche 72-27 dal metodo ambata-fulmine Bari-Nazionale e l'abbiamo vinto qui, all'estazione del 7. Quindi entrambi i metodi hanno pagato, e ambata-turbo ha pagato l'ambo 4159. Quindi attenzione, perché questo è un metodo pazzesco, è un metodo mensile, poi farò un video dedicato per andare a vedere proprio quello che produce in pochi colpi. Quindi è un metodo che vi straconsiglio. Andiamo a vedere se c'è qualche distanza, distanza 2 su Cagliari-886, quindi non solo c'è la distanza 2, c'è la somma 90, c'è l'86 cadenza 6, quando si presenta in terza posizione è molto forte. Infatti la cadenza 6, 86-16 è presente sia su Cagliari sia su Palermo in terza posizione. Questo ci porta un grande 90, perché la cadenza 6 la troviamo in terza posizione. Quindi attenzione a quello che succederà nelle prossime estrazioni, sempre costanza e fiducia nei metodi, mi raccomando, perché solo in questa maniera possiamo raggiungere risultati. Costanti, fiduciosi sui metodi, perché quando il metodo è forte, quando il metodo è buono, giocato con costanza e con continuità, ci porta ai risultati. Abbiamo visto su Napoli, bellissima doppia distanza sia la 1 sia la 2, 39-41, 60-59, accompagnato tutto questo dalla figura 9-81. Vediamo ancora, anche Roma porta distanza 2, 27-29. Direi che queste sono un po' le situazioni più belle, anche Milano 27-29, distanza 2. Infatti sia Milano e Napoli portano i manieri sotto, a distanza 2, distanza 1, 27-29, 59-60. Vediamo, nonostante la soglia del Novanto, Vediamo, nonostante la soglia del Novanto,